Bentornati sul mio canale YouTube diretta Martorana e qui su Spreaker. Se ancora non l'avete fatto iscrivetevi, lasciate un commento, mettete un like. Oggi parliamo del Parlamento. Il Parlamento è un organo costituzionale titolare del potere legislativo. Chi rappresenta quest'organo? Direttamente i cittadini. In Italia vige il bicameralismo perfetto, ovvero entrambe le camere hanno le stesse funzioni, gli stessi poteri. Ma quali sono le due camere? Abbiamo da un lato la Camera dei Deputati e dall'altro la Camera dei Senatori. Questo secondo l'articolo 55. La Camera dei Deputati è costituita da 630 deputati, mentre la Camera dei Senatori da 315. L'età dell'elettorato attivo della Camera dei Deputati è di 18 anni. Della Camera dei Senatori è di 25 anni, mentre l'elettorato passivo della Camera dei Deputati è di 25 anni. Dell'elettorato invece passivo, per quanto riguarda la Camera dei Senatori è di almeno 40 anni. Cos'è l'elettorato attivo? È rappresentato da coloro che hanno il potere di esercitare il diritto di voto e l'elettorato passivo coloro che sono eletti. Possiamo distinguere varie tipologie quindi di sistemi. Allora, in Italia abbiamo un sistema bicamerale. Il sistema era stato previsto dall'Assemblea Costituente per garantire una maggior riflessione rispetto all'attività legislativa, anche se questo ha prodotto un'eccessiva lentezza nel meccanismo con il quale vengono prese le decisioni politiche, perché ogni legge prima di essere approvata deve passare, quindi ogni decisione da una Camera ad un'altra. Andiamo a vedere quindi una sorta di omogenità dal punto di vista politico nelle Camere. I deputati abbiamo detto che sono 630, di cui 12 sono eletti in circoscrizione estera, mentre i senatori sono 315, di cui 6 eletti in circoscrizione estera. In più troviamo anche senatori a vita, che sono cittadini che hanno alti carichi in ambito sociale, artistico, letterario, scientifico e quindi vengono nominati e gli viene concessa questa onorificenza da parte del Presidente della Repubblica. Il sistema elettorale. All'articolo 57 troviamo questa definizione, ovvero il Senato viene eletto su base regionale, mentre all'articolo 56 il sistema elettivo per la Camera dei Deputati è su base nazionale. Cosa dobbiamo dire? Che la Camera dei Deputati e la Camera dei Senatori si riuniscono in seduta comune a Montecitorio e che inoltre nella la Camera dei Senatori troviamo anche di diritto alcuni senatori a vita e chi sono? Gli ex Presidenti della Repubblica. Quando le Camere si riuniscono in seduta comune queste sono presiedute dal Presidente della Camera dei Deputati. E quando è che le Camere agiscono in seduta comune? Quando dobbiamo fare questo elenco specifico? Allora, per l'elezione del Presidente della Repubblica e per il giuramento di fedeltà all'articolo 83 e dall'articolo 83 all'articolo 91 della Costituzione, per la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica all'articolo 90, per l'elezione di un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura all'articolo 104, per la nomina di un terzo dei giudici della Corte Costituzionale all'articolo 134. Che le due Camere si riuniscano e deliberino in seduta comune è sancito nell'articolo 55 e il periodo in cui il Parlamento rimane in carica è di 5 anni solitamente e ha definito legislatura. Questo è sensi dell'articolo 60. Come sono scelti i parlamentari? Attraverso libere elezioni e che cosa rappresenta questo momento? Il momento di più alto esercizio di sovranità da parte del popolo. Come può essere il sistema quindi elettivo? Possiamo avere un sistema maggioritario o proporzionale e a differenza quindi di questi ultimi sistemi corrisponde poi anche una nomina completamente opposta. Quindi possiamo avere un sistema maggioritario ovvero dei candidati, un unico candidato eletto in collegioni nominali oppure con il sistema proporzionale abbiamo un numero di più persone che vengono elette in più collegi, quindi plurinominali. da un lato il sistema maggioritario provoca la risoluzione dell'eccessiva presenza di partiti anche di piccole dimensioni, dall'altro però priva al tempo stesso la garanzia di una rappresentanza anche dei partiti minori. Per quanto riguarda il sistema proporzionale garantisce la rappresentanza di una pluralità di idee attraverso partiti diversi da un lato e dall'altro però mina anche l'efficienza stessa ovvero provoca un'eccessiva concentrazione di partiti. Bene per questo per questo podcast è tutto ci vediamo e ci sentiamo nei podcast successivi in cui analizzeremo gli altri paragrafi che rientrano nell'ambito del Parlamento. Se avete trovato questa prima parte interessante vi invito ad iscrivervi al mio canale youtube, a seguirmi qui su Spreaker, a lasciarmi un commento, a mettere un like. vi aspetto nei prossimi podcast.